Ti chiedo subito che Pescara dobbiamo vedere domani contro il Cagliari? Un Pescara che ha voglia di fare punti, è troppo tempo che non ne facciamo, è un momento che chiaramente no, zero vittorie, quindi assolutamente dobbiamo ripartire e domani è l'occasione giusta, speriamo. 4-3-1-2, il sistema di gioco del Cagliari oramai collaudato, dovrebbero giocare con Farias dietro le due punte, Sau e Borriello, come si limitano i loro trequartista, come si limitano le giocate offensive e rapide del Cagliari? Beh sì, loro hanno questo grande potenziale offensivo e chiaramente hanno velocità, hanno qualità, quindi in questo momento stiamo vivendo un momento particolare, quindi speriamo appunto che questi attaccanti che hanno loro cerchiamo di mettere in campo le nostre qualità, speriamo bastino appunto per poter avere la meglio. Vedremo un Pescara stile secondo tempo come l'Olimpico contro la Roma con quella voglia di fare calcio, di giocare la palla e di essere propositiva? Sicuramente il Pescara ha queste caratteristiche, non possiamo assolutamente giocare in un'altra maniera, cercheremo comunque sia di stare magari anche un po' più accorti, appunto da non innescare gli avanti del Cagliari, però comunque non rinunciando mai alle nostre qualità che sono quelle del gioco. Linea 4 lo possiamo dire dietro? Ma credo proprio di sì, quindi credo che sia un 4-3 sicuramente. 4-3 tanta fantasia, in questa tanta fantasia è piaciuto molto Simone Pepe alla prima gara da titolare a Roma? Sì, ci ha messo un pochettino ad entrare in condizione perché comunque veniva da una mancata preparazione, quindi è un giocatore che ha bisogno di mettersi al pari con gli altri, magari non sarà al 100%, però quello che ha in questo momento lo darà sicuramente. Ti chiedo del Cagliari, nel senso abbiamo detto poco fa che giocano con il trequartista dietro due punti, abbiamo parlato delle grandi qualità offensive, ma se ti dovessi chiedere qual è la cosa che temi di più della squadra sarda che a onor del vero in trasferta non ha fatto benissimo quest'anno? Sì, ha appunto una grandissima velocità e qualità davanti, noi purtroppo nelle nostre ultime uscite abbiamo subito tantissimo delle ripartenze delle squadre avversarie, per cui il Cagliari ha queste caratteristiche, abbiamo lavorato tantissimo in settimana appunto per arginare questo tipo di situazione, quindi speriamo che il lavoro paghi. Se ti dovessi dire che questa non è una partita, ma è la partita per la stagione del Pescara, cosa mi rispondi? Ma assolutamente sì, non possiamo più fare nessun tipo di calcolo, noi dobbiamo fare punti con tutti, la prima è il Cagliari domani, speriamo appunto di fare il bottino pieno.